Nome? Emma? Cognome? Graziani? Sovrannome? Mimmi? Ruolo? Centrale? Hai tambaggi? Sì. Quanti? Otto mi sembra. Film preferito? Mi piacciono tutti quelli della Marvel e anche un po' sono un po' romantica quindi ti fimo un po' strappalacri. Piatto preferito? Pasta, qualsiasi tipo di pasta per me è perfetta. Città preferita? Allora, direi Roma. Sì, ho visto Tugano in Roma quindi Roma. Canzone preferita? The Weekend, Mount of a Flame. Il tuo idolo? Il mio idolo sportivo o della vita? Il tuo idolo? Il mio idolo, Carlo. La tua varietà più bella? La mia varietà più bella è stata la finale del mondiale giovanile che ha l'abbiamo vinto contro la SED. L'avversaria più forte contro cui hai giocato? Sempre un semifinale di un mondiale, il Giappone. La compagna di squadra più forte con cui hai giocato? Britta Edwards. Perché hai scelto il tuo numero? Ma non l'ho scelto. In realtà non l'ho scelto, mi è stato dato questo il mio primo anno al bisonte e adesso mi sono affezionata quindi rimane a questo. Il tuo sogno è più grande? Le allimpiadi. Grazie. A voi.